Ciao a tutti, incontro sullo spazio e il tempo nei premessi sposi. Affrontiamo insieme questi argomenti, queste due istanze narratologiche, perché evidentemente sono fra loro difficilmente scindibili, separabili. Perché? Andiamo a vedere nel dettaglio. Lo spazio, partiamo da questo, lo spazio nella letteratura classica ha una funzione distensiva, a volte esornativa, cioè di puro abbellimento, per dare un'ambientazione alla battaglia, all'incontro amoroso, all'incontro amicale, quello che sia, c'è bisogno di una cornice paesaggistica e questo appunto è quello che viene operato nei romanzi, in alcuni romanzi, fino a come si sposi. Più semplicemente possiamo invece dire che nei premessi sposi ha una valenza espressiva, cioè non è slegata allo svolgimento della trama, anzi è funzionale ad essa. La azione che si svolge o la rappresentazione di un personaggio viene arricchita proprio dal contesto spaziale in cui si trova, che sia appunto una città, un borgo, un castello, una casa, una stanza, eccetera, tutto questo contribuisce alla caratterizzazione più precisa di un'azione o la rappresentazione più profonda di un personaggio. Ciascun nucleo narrativo, quindi ci ricolleghiamo alla trama su cui hai già visto un video, ciascun nucleo narrativo è collegato ad una precisa dimensione spaziale e questo ha un valore simbolico. Evidentemente qua dobbiamo tornare appunto alla concezione dei nuclei che abbiamo già visto nell'altro filmato. Il primo e il sesto sono ambientati in paese. Qua andiamo ovviamente per larghe, andiamo così analizzando, così, a larghe spanne, quello che è il contenuto del romanzo. Primo e sesto nucleo, sì, è vero che sono ambientati nel paese, ma abbiamo già detto come poi i due promessi sposi si vanno a stabilire, ma effettivamente possiamo considerarlo quasi un appendice quella al 38esimo capitolo. Il terzo e il quinto nucleo vedono Renzo come protagonista che sta in strada, si muove appunto verso Milano, partecipa in qualche modo, sommo al grado, ai tumulti, per poi scappare ancora per strada verso Bergamo, come anche quando torna poi nel suo paesino, vede la sua casa distrutta dai lansichenecchi, vede la sua vigna invasa dalle erbacce, infestata dai parassiti, va a Milano ancora per strada e per strada fugge dai cittadini inferociti che lo hanno preso per un untone e di nuovo per strada raggiunge il lazzaretto, rivede padre Cristoforo, rivede Don Rodrigo, rivede Lucia, e poi di nuovo in strada, lo troviamo sempre per strada, come anche invece il secondo e il quarto nucleo sono dominati da spazi interni, Lucia va dalla monaca di Monza, Lucia viene portata in qualche modo da donna per sede a Milano, in questa casa sicura. Ecco, facile individuare che Renzo è un eroe dello spazio esterno, qual è la strada, eroe ovviamente in senso lato del termine, Lucia è appunto invece protagonista di spazi interni, dove sicuramente si trova più a suo agio. Ma andiamo ad esplorare un pochettino quali sono appunto spazi come paese e città, non sono moralmente caratterizzati, sono in opposizione, siamo d'accordo, ma in entrambi comunque i protagonisti trovano il male, è nel borgo che viene perpetrato il misfatto iniziale, è in città che Renzo corre il rischio di perdere addirittura la libertà, se non la vita, è appunto in città di nuovo che Renzo viene preso per un tour e ancora una volta rischia la vita, è in città che i due quasi si, in città una volta è nel lazzaretto, una volta che Lucia esplicita il proprio voto, stanno quasi per lasciarsi. Quindi non sono caratterizzati nessuno, né il paese, né la città, in maniera positiva. Però troviamo un'opposizione generica tra spazi aperti e spazi chiudi, questa è una caratteristica che troveremo in tanti altri. Qualcosa dobbiamo dire? Che ci sono genericamente come spazi aperti possiamo trovare da una parte il paese, la città, la strada, dall'altra il convento, l'osteria e il lazzaretto. Genericamente intendo, perché ovviamente spazio chiuso, l'osteria, dopo entriamo nel dettaglio, non possiamo definirla, il lazzaretto è naturalmente, sì, l'inferno in terra, ma è un inferno purtroppo che conosce molte persone che ci vanno, per cui è uno spazio che di finire chiuso abbiamo difficoltà. Infatti però un aspetto che volevo mettere in rilievo cioè il fatto che non c'è una moralità legata agli spazi. Cioè nessun luogo d'Amazonia è connotato come buono per eccellenza. Penso alle chiese, ai conventi, che con un'ottica cattolica di Manzoni potrebbero essere considerati dei luoghi buoni per eccellenza? No, perché sono dei luoghi come la monaca di Monza ci insegna, sono dei luoghi anche che possono diventare di perdizione, luoghi di costruzione della volontà, luoghi di ripensamento, luoghi di titubanze, luoghi non buoni in generale. Ecco, l'importante è appunto ricordarci che non c'è nessun luogo, lo stesso paese che sembrerebbe appunto essere a misura d'uomo, un paese in cui Renzo e Lucia sono nati, sono cresciuti, si sono innamorati, ecco, il paese diventa il luogo della sopraffazione. Non è il posto buono. Ecco, questo è un metodo interessante come discorso legato sempre al discorso più ampio sul rapporto bene-male che troviamo in tutto il romanzo. Cioè, non c'è un luogo moralmente definito positivo, moralmente definito negativo, perché la moralità è insida nelle persone. I luoghi sono di per sé neutri, e sono le persone che rendono questi luoghi buoni o cattivi, pur lasciando la libertà nell'una o nell'altra caso di comportarsi come si vuole. Per cui questo è anche un discorso molto interessante, perché, ripeto ancora una volta, è un messaggio molto naturale, molto vicino a noi. Non ci sono dei quartieri buoni. Sì, quartieri in cui manca la microcriminalità, ma magari c'è spaccio di droga molto maggiore, non violento, ma che rispetto alla periferia, penso alle grandi città in cui per lo più abitiamo. Ecco, non ci sono luoghi pervertiti. Ecco, non ci sono... ci sono persone pervertite che quindi pervertono poi i luoghi in cui si trovano, ma non ci sono luoghi negativi. Il castello di Doradrigo, dopo che, dopo la sua morte, viene venduto, affidato, va in eredità ad un parente buono. Ecco, con lo stesso luogo da cui erano partite tante malvagità, diventa un luogo invece di vita normale, di vita buona. Cronotopo, o cronotopo, non ho mai capito nella letteratura come vada pronunciato, ma insomma, è un concetto interessante. la parola è greca, cronos significa luogo a tempo, tropos significa luogo, cioè nasce in ambito matematico, ma Mikhail Bakhtin nel 37-38, uno studioso rosso, lo applica alla letteratura, lo adatta alla letteratura e per manifestare con un solo termine questa inscindibilità fra spazio e tempo. Per questo facciamo un incontro fra le due istanze narratologiche considerate globalmente. Si condizionano lo spazio e il tempo reciprocamente. Nelle opere letterarie lo spazio, in qualche modo, influenza il tempo, il tempo influenza lo spazio. La definizione che da Bakhtin di questo è che i connotati del tempo si manifestano nello spazio, al quale il tempo dà senso e misura. Cioè, ogni luogo porta con sé un significato preciso e arricchisce quindi di un significato particolare alla narrazione. Tutto questo discorso teorico adesso lo concretiamo in tre luoghi che ho scelto, tre spazi, in cui appunto la dimensione temporale apporta significato ulteriore. La città, questa è una cartina di Milano all'inizio del 1600, di suo la città è un luogo di disorientamento, soprattutto per chi non abita in città, no? Per un Renzo, per una Lucia, arrivare a Milano, arrivare a Monza significa trovarsi fuori, ovviamente, da qualsiasi parametro nei quali sono cresciuti. Diventa però anche il luogo della scoperta di sé, quindi torniamo al discorso che ci facevamo prima, no? Che non è un luogo cattivo. Renzo, grazie ai pericoli, i corsi a Milano, capisce meglio i suoi limiti. La sua, in qualche caso, inettitudine, deve farsi un po' più furbo, deve farsi un po' più scaltro, come poi vedremo nell'osteria, nella terza e ultima osteria del romanzo. La città è dominata dal movimento, troviamo grandi masse in azione, grandi masse in azione sia durante la rivolta di Forne, sia durante la peste. l'irrazionalità del popolo, l'irrazionalità della gente è certamente uno dei bersagli polemici del narratore. La folla, il più delle volte, è connotata dalla follia, ecco, giocare sui termini. Il tempo, il tempo nella città è veloce, veloce nel senso del tempo narrativo, ma anche il tempo che vengono a vivere i personaggi in questi luoghi, è un tempo accelerato, certamente. È il luogo della violenza, non soltanto quella pubblica, tra virgolette quella ufficiale, quella perpetrata dai Micheletti ai poliziotti dell'epoca, ma anche la violenza del popolo che appunto si comporta in maniera non buona. Il sapere contadino di Renzo è del tutto inefficace. Per ritrovare non soltanto la libertà, ma la propria vera identità la nuova, la nuova acquisita identità di uomo più maturo di uomo, di uomo maturo, di ragazzo istintivo e impulsivo deve superare il film in Adda, quindi quell'altra notte, notte, ancora una volta ti rimando al video sul romanticismo in cui parliamo della dimensione notturna in contrasto all'illuminismo, alla luce dell'illuminismo, è necessaria la notte lungo l'Adda per riacquistare certamente la libertà e la tranquillità nei confronti della legge milanese, ma anche per riacquistare la propria identità. E anche quando rientra, quando ormai il romanzo sta avviandosi verso la conclusione, quando rientra a Milano, il suo rapporto con la città, con la gente di città, con l'irrazionalità dei milanesi, in questo caso specifico, ovviamente crea a lui moltissimi problemi. corre il rischio di essere appunto linciato e soltanto saltando sul carro dei monatti riesce a fuggire da morte pressoché certa. Quindi città di nuovo chiaroscura, però ecco come il tempo incide su questo spazio. L'osteria, ci ricorderemo che sono tre le osterie che troviamo nel corso del romanzo, la prima è quella del paesino, in cui Renzo pianifica il matrimonio sorpresa insieme a Tony Gervaso, quella di Milano in cui appunto è ormai nelle mani del poliziotto in borghese e quella di Gorgonzola in cui Renzo appunto ascolta con circospezione un mercante che arriva da Milano portando le nuove nuove che sono un miscuglio di falsità e verità sulle rivolte dei forni che hanno visto gente di campagna come protagonisti fa riferimento proprio al ruolo di Renzo che ha giocato Renzo qualche giorno prima ma Renzo invece di rispondere istintivamente come avrebbe fatto magari qualche giorno prima tace tace paga il conto e va via dall'osteria e sa che non ha senso il conto producente è pericoloso parlare quindi è come ho detto più di più volte è un bildungsroman un romanzo di formazione in particolare per questo personaggio lo staria è uno spazio chiuso però anche in questo caso come prima dicevamo è uno spazio in cui entra continuamente gente dall'esterno portando con sé le novità dell'esterno e quindi quello che è successo in città quello che è successo nella via il guaio la notizia la politica ecco la carestia la notizia della guerra eccetera tutto questo entra dentro l'osteria ma questo non porta ad un accelerarsi del tempo perché il tempo all'interno dell'osteria è un tempo essenzialmente improduttivo è un tempo di non lavoro è quasi appunto una cornice in qualche modo legata all'ozio e per cui si gioca si canta si perde tempo per cui è uno spazio chiuso ma non poi così chiuso in cui il tempo è un tempo fermo in qualche modo l'esterno è il luogo della serietà della serietà del lavoro dell'impegno quotidiano della lotta anche per il bene e il male del potere che a volte si manifesta nelle sue forme più più bieche l'interno è invece il luogo tra vedete protetto in cui si fa quello che si vuole si beve si gioca si corre il rischio di essere catturati dalla polizia se non si è particolarmente furbi appunto è un luogo potenzialmente transgressivo frequentato da gente di basso livello gente che tendenzialmente non lavora che così si barcamena per mangiare lungo la giornata ci sono i bravi ci sono i poliziotti bravi che stanno nel paese di Renzo per capire chi non è i bravi di Torre Trego come anche ci sono i poliziotti per spiare quelli che possono essere dei potenziali ribelli Lo Stereo di Nuova è uno spazio chiuso in parte in cui c'è un tempo molto particolare chiudiamo con Il Castello Il Castello certamente è un topos letterario del romanzo gotico non è un caso che Walpole intitoli Il Castello di Oton intanto a quello che è l'archetico del sottogenere che è del 1764 per poi arrivare a quello che è il precedente più importante dei primi si sposi cioè Ivanhoe di Walter Scott però in Ivanhoe il castello si caratterizza per almeno due aspetti che sono molto importanti di nuovo collegati in un luogo uno spazio collegato con un tempo cioè è uno spazio saturo di tempo di storicità ci sono armature antiche ci sono quadri antichi c'è il passato in questo castello come anche c'è un legame storico ma comunque un legame fisico con l'ambiente circostante queste sono le due caratteristiche che troviamo già in Ivanhoe di Scott relegate allo spazio definito come castello esattamente questi due aspetti noi li troviamo nelle stanze del palazzotto di Dora Rodrigo ci ricorderemo appena il frate va via il padre Cristoforo che ha appena minacciato compiendo quindi un gesto totalmente fuori di quello che è la sua la competenza minacciato Dora Rodrigo appunto di un castigo eterno che grava sulla sua anima se non si penta quindi se non abbandona l'impresa scellerata contro Lucia appena il frate è andato via ecco noi troviamo Dora Rodrigo pensieroso lungo i corridoi del proprio castello cosa c'è lungo i corridoi di questo castello ci sono essenzialmente i ritratti degli avi per cui altri mafiosi chiameremo oggi mafiosetti locali addirittura troviamo badesse per cui il lignaggio non mente ecco in questo senso per cui degli avi che quasi sembrano dialogare con questo signorotto e quasi ricordare la nobiltà nobiltà è paradossale la nobiltà del malaffare guarda che tu sei un personaggio che appartiene a questa famiglia che da sempre ha dominato da sempre non si è fatta mettere i piedi in testa da nessuno con le buone soprattutto con le cattive maniere tu che cosa fai? ti fai mettere paura da un frate e la sua così vaga minaccia di un futuro ultraterreno negativo nel caso in cui no tu non puoi tu non sei di questa famiglia come anche il castello di Don Rodrigo domina quello che è prima un piccolo borgo di contadini e bravi che abitano ovviamente in un clima in un'atmosfera in un ambiente decisamente negativo e degradato dall'altro però c'è anche sempre come il dominio dall'alto di questo castello c'è invece il paese di Renzo e Lucia quindi c'è un dominio sull'ambiente circostante che questo castello esercita di nuovo una relazione forte che c'è fra spazio e tempo anche in relazione a questo luogo specifico che è il castello ma non basta perché c'è un altro castello all'interno dell'opera che ovviamente è il castellaccio dell'innominato qui troviamo la la solita incisione di Gonin che accompagnava l'edizione del 40 vediamo quanto è più in alto quanto domina sappiamo che è al confine fra Milano e Bergamo sappiamo che questo è una posizione strategica perché essendo l'innominato un personaggio pericoloso né Milano né Venezia hanno interesse a difendere la legalità a mandare dei soldati a perdere dei soldati per contrastare le malvagità che opera questo uomo è come dire che Milano trovandolo l'innominato al confine con Venezia dicesse in maniera ovviamente non così esplicita dicesse beh se ne occupi Venezia di questo problema e Venezia facesse altrettanto si crea di fatto un regno a sé stante senza confini senza frontiere però è un regno a sé stante non ha storia nelle stanze e in questo appunto quindi nello stesso romanzo noi troviamo il topos del castello confermato dal castello di Don Rodrigo e invece in qualche modo contrastato ribaltato dal castello denominato non ha storia ma c'è un motivo anche in questo cioè non c'è un passato questo uomo non appartiene ad una famiglia che da sempre comanda da sempre appunto opera malvagità nei confronti degli uomini no no questo uomo si è costruito da sé self mad man cioè un uomo che si è costruito nella propria fama e su fatti che lui all'inizio ha compiuto per fatto compiere cioè bravi e quindi è giusto che non ci siano quadri sulle pareti di questo castello ci sono le armi le armi che lo hanno reso quello che è quindi il rapporto con il tempo non c'è di fatto è lui il suo tempo diverso ovviamente da quello che abbiamo visto di Don Rodrigo si erge lontano da qualsiasi paesino è un paesaggio anche qui lo vediamo dalle illustrazioni di Conin è privo di vegetazione privo di vita no ed è come dicevamo prima isolato sul confine fra Milano e Venezia il padrone aspira all'onnipotenza e già questo ci fa vedere che anche la caratura allo spessore umano dei due personaggi di Don Rodrigo da una parte e l'inominato dall'altra si riflette nel castello quindi torniamo a quello che ci siamo detto all'inizio cioè che il paesaggio non è mai semplicemente esornativo distensivo ma aumenta cresce di significato quello che sta per essere o sta per essere raccontato o narrato nel romanzo quindi di nuovo va studiato in perfetta continuità con la narrazione va studiato perché la integra in maniera veramente mirabile alla prossima